Siamo con Umberto Liva, il vincitore di Mix Factor, quarta edizione dell'Elicario Experience. Raccontaci un po' come è stata questa vittoria, raccontaci un po' del cocktail vincitore, quali sono gli ingredienti, come l'hai pensato e tutto quello che c'è dietro, insomma. Buonasera, il cocktail si chiama Five Zen, proprio per il nome dell'azienda, la Five Sense. È un cocktail molto semplice e replicabile, è una base sour, quindi un rum sour, un rum relicario, con succo di limone, succo d'arancia e sciroppo alla cannella, con un vellutato a base di zenzero, dell'acqua fabba aromatizzata, che è un'acqua di cottura di ceci, con dello zenzero. Il cocktail è pensato per il palato femminile, soprattutto visto il contrasto che c'è tra aspro e dolce, l'aspro dato quindi dal sour, dal rum, e il dolce dato dalla schiuma aromatizzata allo zenzero. Sicuramente una grande emozione e un ringraziamento alla Drogeria Fiorelli e ai colleghi che oggi sono stati qui dopo il lavoro a fare questa competizione.